bella a tutti i free readers arriva una notizia importante che vogliamo diffondere davvero davvero importante ci teniamo in modo particolare andiamo a leggerla sulla rivista drug and alcohol dependence una rivista importante e rinomata è stato diffuso dalla canada insomma questa rivista dj in canada si diffonde in canada è stato diffuso che sono stati degli studi sono stati effettuati degli studi sull'ontario e l'alberta quindi questi stati queste regioni del canada e sono stati analizzati i dati degli incidenti tra il 2015 e il 2019 laddove la regolamentazione della cannabis è entrata in vigore nell'ottobre del 2018 ricordiamolo quindi è stata analizzata questa situazione questo arco temporale sugli incidenti e il ricercatore rus callaghan ha confermato che non c'è alcun tipo di nesso né causale né concatenato tra l'aumento di incidenti che non c'è stato e la regolamentazione della cannabis che invece è avvenuta quindi questo nesso non esiste e di fatto non è cambiato quasi nulla dopo che sono stati analizzati i precisi parametri e di fatto allora questo è sicuramente un argomento in meno per i proibizionisti ma anche importante dal punto di vista referendario perché nel referendum dell'anno prossimo sappiamo bene che il punto 3 che è diviso in tre punti questo referendum sulla cannabis tocca tre punti il terzo punto riguarda proprio l'uso personale e la patente che non dovrebbe essere ritirata proprio perché uno usa cannabis in un altro contesto magari alla guida possiamo discutere nel servirebbero delle soglie abbiamo già detto abbiamo già affrontato avete fatto anche delle importantissime proposte e vi ringrazio ci si sta lavorando ma in italia si è lontani ma sicuramente non si può per l'uso in un'altra circostanza ritirare a prescindere la patente e questo è un punto importante nel quesito referendario dell'anno prossimo fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate perché ci tengo particolarmente a questa situazione bella a tutti i free readers fino alla libertà e questo è un punto importante per l'uso in un'altra circostanza ritirare a prescindere la patente e questo è un punto importante per l'uso in un'altra circostanza ritirare a prescindere la patente